C'è questo concetto qua di Kaizen e di riposarsi, quasi come che Kaizen ti facesse stancare, va ripensato. Kaizen e Kaizen. Zen vuol dire meglio, come decliniamo meglio, semplicemente togliendo quello che non sono le attività valore, che Kaizen chiama muda. Per definire quali sono le attività non valore, bisogna avere chiaro quali sono le attività valore e non è scontato questo aspetto qua. Soprattutto se operiamo nel mondo dei servizi, nel mondo della pubblica amministrazione, nel mondo della sanità ad esempio, non solo nel mondo della trasformazione industriale, ma anche nella trasformazione industriale la declinazione di valore è diversa in contesti come Remazzele Engineering che avete visto rispetto a contesti che avete visto adesso ultimamente. Detto questo che è Zen, Kaizen è cambiare. Ok, chi sono i protagonisti del cambiamento? Le persone. Perfetto. Quindi Kaizen non è una serie di strumenti o di metodologie, Kaizen è concentrarsi sulle persone e allenare le persone a rivedere le cose in maniera diversa. Questi grandi risultati che avete visto non siamo noi, sono le persone che le ottengono. Noi siamo solo degli allenatori, con un metodo molto forte. Ok, tutto qua. Ed un metodo molto forte che se viene interpretato in una maniera corretta e positiva, trasforma le potenzialità, i potenziali di energia delle persone in una roba incredibile. Allora, chi meglio di Andrea Rosa a raccontarci delle persone? Andrea Rosa e noi abbiamo lavorato, siamo amici, abbiamo lavorato da tantissimi anni, anche prima di Kaizen Institute con lui, l'abbiamo seguito in tutto il suo percorso. Molte anni fa ha scritto un libro, dalla t-shirt all'eccellenza, che trovate lì. Io non so se si può prendere, chiara? Eh? Si può prendere questo libro qua? Ok. Dico anche che tutto quello che lui ha ricavato dalla vendita di questo libro è stato devoluto, no? A chi ne aveva sicuramente più bisogno. È una cosa sorprendente. E lo segnalo. Lui non è ancora un Kaizen Guy, non è ancora un Kaizen Guy perché, come dire, il titolo di Kaizen Guy glielo diamo oggi. E lui ci deve contentare di noi e non di Masakimai a dargli il titolo. Eh? Glielo diamo subito, giusto Alessia? Ok. Andrea Rosa, Kaizen Guy, per il suo impegno nel diffondere la cultura del miglioramento continuo. Grazie. Potrebbe essere un premio alla carriera. Per me è veramente un grande onore, un gran piacere. Peccato per Masakimai, ma anche per me è molto significativo che me l'abbia consegnato Carlo. Eh? Io vi porto una riflessione sulle organizzazioni, ma ve la porto raccontando un po' eh di storia senza nessuna pretesa di fare eh nessuna lezione. Lavoro in Rema dell'ingegneri. In cinque anni abbiamo fatto un turn around, abbiamo affrontato una crescita importanza del mercato, assunto un sacco di ragazzi giovani, abbiamo diversificato tutto il portafoglio clienti, è arrivata la pandemia, abbiamo gestito la pandemia a Bergamo, abbiamo visto il nostro mercato scomparire, ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo iniziato a lavorare sulla transizione energetica, abbiamo visto di nuovo la crescita, la crescita è arrivata più velocemente eh di quello che avevamo previsto, una crescita molto forte, la complessità, i costi dei materiali. L'azienda va bene e fino adesso abbiamo portato a casa la pelle, che non è tanto, che non è poco. Che cosa faccio io in Rema? La risposta più calzante la prendo in prestito da un vecchio allenatore del calcio Padova, io sono un padovano e la risposta è faccio il pastore di Tori. Perché per resistere, come dire, a una pressione di questo tipo e così tanti variabili, ci vuole resistenza, ci vuole gente un po' cociuta e molto determinata. Quindi questa storia comincia nel 2017, io arrivo in Emanzel e decidiamo di applicare un sistema, un modello di gestione dell'azienda, atipico, se volete poco accademico, cioè di guidare e gestire assieme. Normalmente anche nei corsi di management, la leadership è sempre divisa dalla parte di management. Quindi costituiamo un gruppo di 5 persone, steering committee, e dal 2017 e tuttora, trovandoci tutti i lunedì, questo gruppo ha preso tutte le decisioni, ha lavorato assieme per individuare tutte le soluzioni e tutti i percorsi di tutta questa storia che abbiamo fatto fino adesso, affrontando complicità non da poco. C'è una slide, a me non piace, i dati finanziari a volte sì è difficile. Noi lavoriamo, non lavoriamo a prodotto, lavoriamo per progetti, quindi ogni cosa che noi facciamo la progettiamo e la facciamo per la prima volta. E questa è la crescita di Emanzel come parco clienti, quindi ogni cliente significa uno o più progetti e quindi voi potete immaginare la complessità nell'affrontare molti più progetti in diverse parti del mondo. E non è stato facile. Quando abbiamo cominciato, il primo problema che avevamo è che c'era, l'abbiamo visto nel racconto, è tornato più volte anche oggi, avevamo una divisione dell'azienda che era distante sia come locazione fisica e che come tipologia di business, perché facevano una cosa molto diversa, ma era parte dell'azienda. E quindi siccome dovevamo da subito dare il concetto di un'unica azienda, dovevamo riportare a casa queste persone e integrarle, far vedere che si poteva essere un'unica azienda lavorando assieme. E quando si attuano questi tipi di cambiamento ci sono sempre due aspetti. Uno è la paura, non sto parlando della paura del cambiamento, quello viene a chi subisce il cambiamento. Parlo da chi decide di fare il cambiamento, no? E quindi è la paura di sbagliare, o chiamiamolo timore se volete, che è quella che ti serve per valutare la cosa sotto vari punti di vista. E l'altro è il coraggio. E qua non mi riferisco al coraggio di cambiare, perché chi fa il mio mestiere deve avere il coraggio di fare i cambiamenti, ma di creare un ambiente dove le persone trovino il coraggio di dire la loro, di confrontarsi, di attuare, diciamo, mettersi in gioco, attuare dei cambiamenti e portarli avanti. E questo è il cantiere Kaizen. E questo è stato in modo, secondo me, molto significativo, il cantiere chiamato persone al centro che noi abbiamo attuato, mi sembra, nel 2018, che ha segnato sicuramente un modello di discontinuità con la gestione precedente dell'azienda, ma fatto a capire a tutte le persone all'interno della Remanzel che si poteva, all'interno di un ambiente protetto, finalmente poter individuare delle idee e portarle avanti, avere il coraggio di porre il cambiamento. Vorrei ricordare, se mi permettete un attimo, questo successo con l'intervista che fece il Kaizen Institute al capo della divisione Combustion. È stato un anno molto, molto intenso che ci ha portato a uno stravolgimento proprio del ciclo produttivo, nel vero senso della parola. Abbiamo ottimizzato al massimo gli spazi, oltre a migliorare quello che è tutto il processo produttivo. Oggi ci troviamo in questo sito che è mille metri quadri e riusciamo a assemblare sia bruciatori caldaia che bruciatori turbogast. Questo è Walter Spegliati, membro permanente dello Steering Committee. L'unico problema che abbiamo con Walter è che noi facciamo le riunioni tutti i lunedì e se l'Atalanta ha perso la domenica diventa ingestibile. E questo è per me Kaizen. Io ho conosciuto Carlo ancora prima che lui fosse il Kaizen Institute e devo molto a lui perché, parliamo di più di vent'anni fa, io facevo il project manager, lui lavorava come consulente partner di una delle big four, non faccio il nome, ed è stato lui che mi ha un po' individuato, mi ha pescato e mi ha segnalato come possibile persona che poteva fare un percorso manageriale. Poi un giorno viene a trovarmi, io ero amministratore delegato di questo gruppo, mi dice guarda che ho fatto il Kaizen Institute insieme al mio socio Bruno, dai dai facciamo qualcosa insieme e mi ricordo ancora il primo incontro dove ci costituì il team, molti avrete fatto tutti quanti questa storia qua, arriva Carlo, prende la lavagna, disegna l'omino e dice voi quando guardate le persone che cosa vedete? Fa questa provocazione qua, molti ci cascano, quindi qualcuno comincia a dire il carattere piuttosto che le sensazioni, lui dice no, voi quando guardate le persone vedete le azioni. Solo che io mi sono fermato alla prima parte, voi quando guardate le persone che cosa vedete? E ho cercato sempre di approfondire questa parte qua. E adesso in Remazel stiamo facendo il cantiere Kaizen che prima il team degli ingegneri vi ha presentato, ma stiamo, diciamo ci stiamo interrogando più a livello strategico sul modello organizzativo. Non è facile perché, ripeto, abbiamo una squadra che vince ma abbiamo una situazione dove le cose cambiano molto rapidamente. Guardate spesso è la velocità che crea i momenti di crisi di crisi, perché quando la velocità è lenta tu ti puoi permettere di procrastinare le decisioni. Magari vai avanti, l'azienda è vero se non decidi mai, regredisci un po' alla volta, ma non succede niente. Quando la velocità è molto elevata devi decidere molto velocemente e se parliamo di modello organizzativo se decidi bene evolvi e se decidi male implodi. E oggi a mio avviso, ne parlavo prima a tavola con Pierluisi Tosato, la velocità è così elevata che non è sufficiente parlare di cambiamento, ma bisogna parlare di piccole rivoluzioni. E le rivoluzioni le fanno i giovani. E quindi dobbiamo interrogarci sul modello organizzativo che dia veramente spazio a soluzioni nuove, idee nuove e giovani. L'età media, l'avete vista prima di Amazon, è significatamente bassa per essere quel tipologia di azienda, almeno quando ci confrontiamo sul mercato. E quindi noi siamo concentrati sul modello organizzativo che ci faccia evolvere per affrontare la crescita, per affrontare la complessità. La prima azione che abbiamo fatto è costituire questo work improvement team, cioè una sorta di steering committee 2, al quale abbiamo assegnato degli obiettivi di miglioramento dell'organizzazione. Ma la verità è che al work improvement team noi abbiamo dato uno scopo, ed è uno scopo nobile, che è quello di diventare il leader del futuro di questa azienda, che lavorando a fianco con l'attuale steering committee, possano apportare quella visione e quei cambiamenti che oggi sono necessari e che magari il manager attuale non vede o non ha neanche gli strumenti per poterli individuare. E quando stiamo lavorando con Alessio e ogni tanto nei nostre sessioni di brainstorming noi usiamo parodie o aforismi, adesso lui non so, ha la fissa del frutto che spezza la pianta, no? Quindi lui continua a darmi questo messaggio, se il frutto è troppo grosso spezza la pianta. Allora l'altro giorno io gli ho tirato fuori un libricino che aveva letto, sempre di un allenatore, questa volta di pallavolo, più recente, che si intitola Tacchini e Scoiattoli. Siamo partiti parlando dei tori, quindi adesso andiamo avanti con gli animali, oggi gira così. Ma Tacchini e Scoiattoli, questo allenatore di pallavolo usava la parodia Tacchini e Scoiattoli per convincere il Presidente della società a comprare l'ultimo campione per poter rafforzare la rosa e vincere il campionato. Quindi diceva, caro Presidente, se la gara è chi sale più veloce sugli alberi io ho bisogno di fare una squadra di Scoiattoli invece che di Tacchini. E quindi abbiamo assegnato al Work Improvement Team un altro scopo, quello di individuare quelli che possono essere gli Scoiattoli di domani. E ci stiamo interrogando con l'HR come fare perché una volta individuati questi ragazzi possano avere dei percorsi di accelerazione forti per assumersi responsabilità ma in una situazione di comfort. Cioè quell'ambiente che gli consenta di potersi esprimere con coraggio e senza la paura di sbagliare. Ma vedete, nello sport, parliamo di sport, più importante di vincere è continuare a vincere. Nelle aziende più importante di migliorare è continuare a migliorare. E quindi non ci resta che una soluzione che è quella di insegnare ai Tacchini di salire veloce sugli alberi. Grazie. Grazie. Grazie.